buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura per il segno dei gemelli la nostra carta angelica è già scappata quindi la mettiamo qui e cominciamo subito con la nostra lettura mentre invece se volete una sessione privata inviate un email o andate sul sito stessa cosa per diventare miei studenti allora energia generale abbiamo un 3 di spade rovesciato quindi se avete avuto ragazzi dei momenti difficili sappiate che finalmente questi momenti difficili stanno arrivando a un termine finalmente state imparando e sono stati utili cioè dovete rendervi conto e dovete ammettere che se avete avuto ultimamente dei momenti difficili vi sono serviti perché avete imparato un sacco avete imparato tantissimo siete cresciuti siete diventati più forti molto più consapevoli e siete adesso in una condizione nella quale proprio grazie agli errori fatti nel passato adesso non rifareste più gli stessi errori quindi si cominciano a vedere un po piano piano anzi no magari no non si cominciano a vedere i frutti del vostro lavoro però si comincia ad arrivare a un punto nel quale finalmente il peggio è passato e inizia invece una fase più leggera inizia una fase nella quale potete tirare un sospirone di sollievo perché il peggio è passato e perché tutte appunto le difficoltà che avete attraversato tutte le emozioni più pesanti che avete vissuto adesso non hanno più realmente motivo di esistere ma potete entrare in una nuova fase della vostra vita potete cominciare a rivedere il positivo nelle cose quindi un po ricolorare nuovamente il vostro mondo si tratta di si tratta di un'energia col tre di spade rovesciato nella quale chi è stato male finora smette di star male e chi non era soddisfatto può comunque lasciare andare quel senso di insoddisfazione quindi ecco che questa è una carta che di solito quando è diritta quando è diritta rappresenta i problemi la sofferenza le scelte difficili ma quando è rovesciata rappresenta la fine di quel momento la fine dei problemi la fine delle scelte difficili e invece un siete una nuova versione di voi potete cominciare ad essere potete sentirlo che siete una nuova versione di voi magari questo sarebbe anche interessante vederlo nei commenti come vi sentite in base a tutto quello che avete attraversato nella vita e cosa siete diventati cosa state diventando perché in realtà non è un processo terminato anzi è un processo assolutamente in corso e vi posso dire anche che questa è solamente l'inizio della parte più leggera della parte più bella quindi ecco da adesso in poi per la maggior parte di voi ci sarà un un crescere in positivo ma vediamo adesso che cosa accade nelle due colonne perché in una ritroverete voi stessi e nell'altra ritroverete o il vostro partner o la persona con la quale state interagendo dunque chi si trova da questo lato si sente come un 4 di coppe rovesciato prova un 6 di spade vorrebbe un asso di bastoni rovesciato agisce come un 5 di coppe rovesciato e ciò che non dice è il 4 di spade dall'altra parte abbiamo una persona che si sente come la torre desidera la stella vorre no scusate prova la stella desidera il 4 di bastoni rovesciato si comporta come un 6 di denari e ciò che non dice la carta degli amanti io credo da queste carte ragazzi che sia veramente un mese nel quale le consapevolezze non hanno fine cioè capite davvero tantissimo chi sta da questo lato è qualcuno che capisce finalmente di avere bisogno di qualcosa di diverso questa è una persona che si rimette in discussione ma si rimette in discussione con delle prospettive diverse con dei punti di vista diversi dei presupposti diversi ed è anche disposta a rinunciare a tutto quello che non ha funzionato è disposta proprio ad andare avanti perché capisce cosa davvero è importante qui si tratta di due persone che obiettivamente si vogliono bene obiettivamente hanno un legame fortissimo e infatti questa stesa se voi notate qua richiamo un attimino l'attenzione dei miei studenti che usano queste stese per fare un po di pratica se voi notate ragazzi soprattutto da questo lato ci sono carte molto intense anche di qua anche di qui sono carte molto intense che stanno proprio a definire un periodo particolarmente forte magari duro per qualcuno lo è stato finora ma sicuramente intenso sono tra l'altro ci sono molti arcani maggiori e quelli che non sono arcani maggiori fra quelli che non sono arcani maggiori alcune carte sono davvero impattanti come il quattro di spade come l'asso di bastoni ma ecco mentre uno dei due in questo momento sente proprio il bisogno di cambiamento e sente proprio questo non poter far altro non avere scelta se non cambiare muoversi spostarsi muoversi e spostarsi per qualcuno sarà fisicamente per qualcun altro sarà una cosa interiore l'altro invece sente più un bisogno di stabilità e guarigione fermarsi e riprendersi fermarsi e appunto guarire tutto ciò che nel passato fino ad oggi ha rappresentato una problematica tra l'altro ecco che quando dico che è un momento molto intenso per uno dei due c'è la carta della torre e la carta della torre sapete benissimo ragazzi fin dal primo livello di tarologia psicoevolutiva che è una carta che parla appunto di esplosioni esplosioni che permettono finalmente alla persona all'essere umano di distruggere tutto quello che non aveva funzionato distruggere tutto quello che non andava bene e dalle macerie che rimangono dalle esplosioni si può ricostruire qualcosa di meraviglioso qualcosa di bello ma non solo ragazzi studenti guardate qui questo abbinamento guardate che cosa abbiamo abbiamo la torre e la stella cioè avete fatto caso ragazzi fateci caso per favore studenti di primo livello secondo livello o professionalizzanti qui abbiamo l'arcano numero 16 e l'arcano numero 17 cioè sono proprio due carte che nella sequenza degli arcani maggiori uno sussegue l'altro e infatti dopo la distruzione che cosa accade nel percorso dell'eroe nel percorso dell'essere umano che viene rappresentato dagli arcani maggiori accade che dopo la distruzione c'è finalmente il ritrovare se stessi c'è la guarigione e questa è una persona che si sente come la torre e prova la guarigione quindi c'è già stato il momento di crollo o magari sta per terminare adesso durante questo mese il momento di crollo magari proprio durante questo mese ci saranno le ultime piccole esplosioni che porteranno alla fine di quella cosa che non andava bene e subito dopo la stella subito dopo la guarigione il ritrovare se stessi quindi ecco come un periodo davvero intensissimo un periodo nel quale più che fare scelte la persona entrambe le persone devono davvero focalizzarsi su su come dire attraversare questa fase approfittando di tutto ciò che di positivo questa fase può portare di tutto quello che si può migliorare durante una fase del genere perché se noi non miglioriamo durante queste fasi non lo faremo mai ragazzi il miglioramento non viene mai quando noi stiamo già bene il miglioramento viene superando le difficoltà superando i momenti più bui quindi ecco che sono proprio questi i momenti e le occasioni migliori per imparare qualcosa di nuovo e per creare qualcosa di nuovo ora per quanto riguarda le coppie e i single vediamo un attimino che cosa sta succedendo dunque per chi è in coppia per chi è in coppia questo è assolutamente un momento di trasformazione per la coppia ed è anche un momento nel quale alcune coppie rischiano di rischiano di scoppiare alcune coppie rischiano il di come dire di prendersi una pausa di perché il bisogno di cambiamento e di trasformazione è talmente tanto grande che mentre qualcuno riesce a farlo appunto nella sintonia e nell'armonia fra le due persone qualcun altro invece che ha più difficoltà a gestire la situazione qualcuno per cui magari la connessione energetica in qualche modo fa più scintille ecco che sarà messa veramente alla dura prova la resistenza la forza di questa relazione sarà messa a dura prova ma ovviamente non è per tutti questo è solamente per una piccola parte in linea di massima comunque di certo uno dei due sta sentendo un grandissimo bisogno di quei cambiamenti che rendevano il di fare quei cambiamenti in quelle dinamiche che rendevano il rapporto praticamente ripetitivo nei suoi errori ripetitivo nelle nel non funzionamento c'è sicuramente il desiderio e la speranza di una nuova impostazione a tutti i vecchi problemi questo potrebbe aprire delle prospettive veramente nuovissime delle prospettive nuovissime che possono essere fatte appunto stando insieme nella ricerca dell'armonia oppure separatamente due persone che decidono e capiscono che questa ricerca di armonia necessita un andare avanti un superare questa fase ma non da vicino ma magari da lontano però ecco che queste nuove prospettive questi progetti futuri queste idee che andrebbero manifestate e concretizzate per uno dei due sono davvero molto chiare tanto che appunto questa persona desidera semplicemente riposare desidera semplicemente prendere tempo per se stessa e riflettere ed è anche pronta ad andare via ed è anche pronta a rinunciare a tutto se dovesse essere necessario ovvio che il reale desiderio dentro è quello di stare insieme quello di costruire qualcosa entrambi i partner vogliono stare insieme entrambi vogliono costruire qualcosa e sono anche disposti ad aspettare a dare tempo dare tempo all'altro dare tempo alla situazione di evolvere dare tempo a tutto di di crescere con le giuste tempistiche ma con il 4 di coppe rovesciato e con il 5 di coppe rovesciato qui veramente c'è proprio bisogno di un rinnovamento e il rinnovamento stavolta deve essere reale perché nella nelle stese dei gemelli più volte ho visto nei mesi passati che c'erano appunto delle dinamiche da cambiare e uno dei due era molto restivo a cambiarla questa dinamica ma adesso veramente non si può più perdere tempo non si può più procrastinare e dato che il peggio è passato da questo momento in poi qualunque saranno le scelte fatte comunque si andrà verso un miglioramento e arriva proprio un momento nel quale anche il più anche il più forte anche quello che si è preso più cura della relazione fino ad oggi si rende conto che qualcosa va fatta in modo diverso e che non si può semplicemente dare 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 aspettandosi qualcosa ma bisogna anche essere capaci di spingere l'altro a fare di costringere l'altro a fare la sua parte e se l'altro non è disposto a fare questa parte che vada da per la sua strada ciò che importa alla fine nella vita è star bene quindi ecco la ricerca di questo benessere è ciò che è ciò che tiene vive non una persona non semplicemente una persona sto proprio parlando in grande sto parlando del fatto che se le specie viventi si sono evolute su questo pianeta e sono sopravvissute per milioni di anni e si sono evolute e si sono trasformate è proprio perché la vita tende ad un miglioramento la vita non tende mai a un peggioramento i quelle specie viventi che non si sono evolute che non sono state capaci di trasformarsi e adattarsi all'ambiente si sono estinte nell'arco dei nell'arco dei secoli e dei millenni ed ecco che la stessa cosa vale per gli esseri umani non sono i più forti quelli che sopravvivono perché i più forti sarebbero quelli che sopportano di più e non è così che funziona ma sono quelli che si adattano quelli che sopravvivono adattarsi a volte significa adattarsi all'altro altre volte significa adattarsi all'idea che una cosa non va bene e quindi bisogna prendere il coraggio in mano e fare le cose da soli dunque una delle due persone comunque però ecco vedo comunque due persone che ci sono vedo due persone che ci sono che sono presenti e che semplicemente stanno finalmente sono come alle corde sono proprio messe alle strette dall'universo da qui non si esce da qui tu o cambi o non esci cioè o cambio non esci vivo devi finalmente veramente è arrivato il momento in cui bisogna assolutamente agire trasformare tutto e per uno dei due è un momento di distruzione totale quindi necessariamente dovrà essere un momento di ricostruzione perché l'altro si è stufato quindi dato che l'altro si è stufato di fare tutto e di occuparsi di tutto certo se c'è comunque la voglia e l'intenzione di guarirsi e di migliorarsi questa cosa non può far altro che andar bene per quanto riguarda i single invece per quanto riguarda i single questo è un momento nel quale non non vedo la nascita di coppie non vedo la nascita di relazioni nuove non vedo l'arrivo di nuove situazioni importanti realmente importanti perché il centro di tutto per i single sarà invece su quello che è accaduto fino ad oggi sarà su questa situazione che fino ad oggi vi ha tenuti con vi ha tenuti in bilico vi ha tenuti in in un in una sorta di limbo nel quale non sapevate bene come agire nel quale non siete riusciti a raggiungere i risultati che speravate ed ecco che invece per proprio per i single questo è un momento in cui la maggior parte delle energie saranno focalizzate su di sé ed è ottimo questo perché proprio appunto focalizzando le proprie energie su di sé si arriva a comprendere cosa davvero si desidera e cosa davvero è importante in realtà anche per i single vedo la stessa cosa cioè vedo due persone comunque che ci tengono l'uno all'altro vedo due persone che desiderano la relazione desiderano una guarigione ma vedo anche due persone che hanno affrontato e stanno affrontando delle difficoltà caratteriali dei stanno affrontando dei momenti emotivamente molto forti molto intensi e questa emotività e questa intensità porta queste due persone necessariamente a doversi prendere comunque una pausa necessariamente a dovere comunque accettare la realtà delle cose in particolare per uno dei due è veramente un momento di grande prese di consapevolezza e di grande cambiamento è un momento nel quale per uno dei due potrebbe esserti crollato il mondo addosso recentemente o potrebbe appunto accadere adesso ma è un crollare positivo è un crollare che riporta la persona a riscoprire se stessa a ritrovare la propria vera natura a ritrovare chi è come se ultimamente si fosse un po' perso come se ultimamente avesse un po' dimenticato se stesso o se stessa per mettere per mettersi in gioco con qualcun altro e questo può andar bene fino a un certo punto ma superato un certo limite poi si arriva a si arriva al momento in cui si spacca qualcosa dentro dentro se e questo spaccare qualcosa dentro ti riporta alla realtà ti fa ripiombare nella realtà di te e ti dice no 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 tu devi guardare chi sei tu devi guardare quello che sei tu quello che vuoi tu quello che meriti tu quello che davvero desideri allora a questo punto io direi di io direi di vedere un po' qual è il la combinazione fra il segno dei gemelli e i dodici segni dello zodiaco quindi vediamo un po' per tutti come si mascolano le energie e che tipo di incroci avverranno questo mese ovviamente questa è una parte specifica per i single però io consiglio anche che in coppia di guardare e poi vi ricordo che se invece volete capire esattamente nel vostro caso specifico che cosa sta accadendo vi basta andare sul sito e prenotare una sessione con me oppure inviare un email e la mia assistente vi dirà come funziona e farà tutto per voi quindi andiamo a vedere adesso qual è l'incrocio fra il vostro segno l'energia del vostro segno l'energia degli altri segni zodiacali e anche dimenticavo per diventare miei studenti potete andare sul sito e guardare un po' i prodotti a disposizione i corsi a disposizione se volete rateizzare scrivete un email perché Angela vi darà le varie opzioni quindi vi aiuterà a scegliere quella migliore per voi ma cominciamo cominciamo e vediamo un po' che cosa accade dunque per chi di voi ragazzi ha a che fare con una riete le cose si stanno le cose stanno evolvendo ma lentamente quindi non abbiate fretta il toro vorrebbe qualcosa di più con un altro gemelli ragazzi se avete a che fare con un altro gemelli c'è un contratto carmico in ballo e c'è un insegnamento da prendere prima di poter andare oltre con il cancro è un momento per un nuovo inizio con il leone ci sono con il leone ci sono situazioni che riguardano in un certo senso o complicanze dovute a come dire con il leone dovete un attimino stabilire quali sono davvero le tendenze della persona quali sono gli interessi reali della persona perché se ci sono delle confusioni legate alla sessualità della persona e legate al desiderio reale di questa persona questo potrebbe provocare dei problemi quindi in questo momento non mi sto riferendo né a coppie necessariamente etero né a coppie necessariamente gay o bisessuali quello che vi dico è in generale cercate di capire davvero quali sono le tendenze dell'altra persona o quali sono le persone coinvolte esterne che circondano la persona perché questo potrebbe a lungo andare creare dei problemi e delle confusioni per quanto riguarda la vergine la vergine c'è un sentimento con la vergine però vuole mantenersi distaccato in questo momento la bilancia vorrebbe farsi avanti ma preferisce per adesso non agire quindi sta rimanendo lì a pensare con lo scorpione tutto sta per diventare più chiaro il sagittario sta giocando in realtà con il sagittario non credo che ci siano intenzioni serie il capricorno è un triangolo amoroso quindi c'è qualcun altro coinvolto con l'acquario l'acquario vuole lottare per questa cosa e con il pesci dovete semplicemente smettere di preoccuparvi perché le cose si risolveranno da sole ma adesso andiamo a vedere qual è il consiglio degli angeli e abbiamo un paggio d'aria e infatti notizie quello che potete aspettarvi e sono probabilmente delle notizie che potrebbero arrivarvi o dalla persona direttamente con cui avete a che fare oppure da altre persone queste potrebbero potrebbero arrivare oppure appunto queste notizie o magari potreste essere voi a comprendere delle cose quindi potrebbero arrivare magari o in forma di parole o in forma di intuizioni potrebbero esserci per qualcuno di voi per esempio dei cambi di programma o dei ritardi potrebbe essere che qualcuno per esempio vi dice delle cose senza tatto e quindi magari una cosa che in realtà normalmente non colpirebbe nessuno più di tanto se viene detta senza tatto può dar fastidio può far male quindi ecco state attenti al mondo dell'aria all'elemento aria alle comunicazioni e focalizzatevi moltissimo sul prendervi cura di voi stessi per questo mese per il resto ragazzi vi invito ad andare sul sito internet o a inviarci una email e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao